Nessun complotto, nessuna illegittimità, la delibera sul nucleo di valutazione dei dirigenti del personale non c'entra niente. Ho revocato l'assessore Sonia De Toma perché è venuto meno il mio rapporto di fiducia in lei. Così da Pollonio, sindaco di Sernia, questa mattina in conferenza stampa ha risposto alle accuse lanciate contro di lui dalla sua ex collega di giunta. Per il sindaco di Sernia si è trattato di un rapporto personale politico che si è logorato nel corso degli ultimi due anni, a partire dai contrasti su una delibera relativa all'anticorruzione. Già lì cominciarono i problemi tra da Pollonio e De Toma, ma alla base di tutto c'è il venir meno di uno spirito di collaborazione tra sindaco e assessore, soprattutto perché, come ha ricordato da Pollonio, la De Toma fu da lui voluta ingiunta come sua persona di fiducia, al di là dei voti e dei consensi riportati alle elezioni. Il sindaco non lo dice chiaramente, ma quello che probabilmente gli ha dato più fastidio è il fatto che ogni volta c'era un problema tra loro due, i popolari immediatamente prendevano posizione contro da Pollonio. Insomma, un parallelismo inquietante che ha turbato molto il sindaco tanto da spingerlo ad una decisione radicale e la delibera sul nucleo di valutazione è stata solo un pretesto. Questa è la parte più brutta e deleteria, perché le discussioni ingiunta sono avvenute sempre, sempre per costruire qualcosa di giusto e di corretto. Ovviamente noi ci basiamo sempre su quello che ci dicono i tecnici, quello che ci può dire il segretario generale, che è un po' il garante dell'attività giuridico-amministrativa dell'ente. Il segretario non deve farci sbagliare. Lei dice qualcosa di non corretto, perché il problema non l'ho posto io, l'ha posto il segretario generale, sospendendo una determina dirigenziale che aveva disposto un avviso pubblico per la costituzione del nucleo di valutazione. Quindi questo problema l'ha posto il segretario generale perché diceva che nei contenuti del regolamento approvato c'era qualcosa che non rispecchiava esattamente la normativa e era illogico per questo fatto e si poteva prestare, potrebbe prestare il fianco anche a possibili contenziosi. Per il futuro invece nessun nuovo ingresso ingiunta. Non ci sarà un altro assessore al posto della Detoma, ma le sue deleghe verranno ridistribuite. Per ora le deleghe le ho conservate io, credo che però per tutti gli impegni di quest'ultimo periodo, che sono tanti, probabilmente sto valutando di spalmarle sugli altri membri dell'esecutivo per cercare di trovare un aiuto e anche una maggiore efficacia nell'azione amministrativa con l'aiuto degli assessori.